Trovata la copertura finanziaria per l'intervento di messa in sicurezza del costone di Portopallo a Menfi, sarà finanziato con i fondi del POC immediatamente disponibili quando sarà pronto il progetto esecutivo. Ad annunciarlo nel pomeriggio è stata la deputata regionale di Forza Italia, Margherita Larrocca-Ruvolo, dopo il confronto avuto con il commissario di governo per il dissesto idrogeologico ed un colloquio con il presidente della regione. Margherita Larrocca-Ruvolo ringrazia sia Renato Schifani sia Maurizio Croce per l'interessamento e per la sensibilità, dice, con cui stanno affrontando la vicenda della frana che sta provocando disagi enormi nella località balneare premiata 26 volte con la banniera blu. La parlamentaria grigentina era intervenuta oggi in aula per mettere al corrente il governo e l'assemblea regionale siciliana della situazione incresciosa che da oltre un anno si sta vivendo a Menfi per la frana verificatasi a seguito del nubifraggio nel novembre del 2021. E' proprio stamattina il commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce che ha ricevuto il progetto da parte del comune di Menfi aveva dichiarato che si sarebbe adoperato per trovare le risorse economiche necessarie per l'intervento che non sono più 377 mila euro ma 500 mila euro. Intervento, come si diceva, che sarà finanziato con fondi POC. L'onorevole Larrocca Ruvolo ha inoltre chiesto al governo di dare al tabaccaio Giuseppe Scirica, il menfitano che non lavora più da novembre 2021, da quando cioè la sua attività venne dichiarata inagibile a seguito di quella frana e che dall'inizio di gennaio ha deciso di attuare lo sciopero della fame, la possibilità di riprendere la sua attività lavorativa o con un container così come disposto dall'Associazione dei Tabaccai oppure tornando nella sua sede.